C'è un'emergenza in Italia su cui bisogna dare la massima attenzione, l'aumento dei poveri, è quanto sottolinea il cardinale Gualtiero Bassetti sul settimanale dell'Osservatore Romano in occasione dell'ultimo rapporto Istat sulla povertà in Italia. Per l'arcivescovo di Perugia la situazione più inquietante, più preoccupante è il rischio di una strisciante subdola guerra tra poveri, una sorta di perverso conflitto sociale tra chi occupa l'ultimo posto della società e tra chi ne sta addirittura fuori. Nel suo intervento il cardinale Bassetti ricorda che secondo l'ultima pubblicazione dell'Istat sono più di 8 milioni i poveri e di questi, aggiunge, ben 4 milioni e mezzo vivono in condizioni di indigenza assoluta. Queste cifre già di per sé drammatiche, tuttavia non ci dicono tutto. Accanto a questi numeri preoccupanti bisogna aggiungere infatti le nuove forme di esclusione sociale che le statistiche non ci restituiscono appieno.